Barra inversa. Massimo Giletti sarebbe pronto a tornare il Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione TV Blog. Che parla anche del futuro, a quanto pare incerto, di Fabio Fazio e del suo programma Che Tempo Che Fa. Il conduttore di La Sette, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera non è l'Arena. Avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell'azienda radio televisiva pubblica. Si legge sul portale di TV di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente. Ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni. Una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l'attuale compagine governativa. Massimo Giletti torna il Rai al posto di Fabio Fazio. Massimo Giletti fa sapere sempre tv blog editerebbe lo spazio della prima serata della domenica su Rai 3. Al posto di che tempo che fa. Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza e si dice che gli attuali vertici di Viale Mazzini non vogliano per ora procedere al rinnovo. E poi ancora su Fazio, se davvero dovesse lasciare la Rai, forse stavolta si concretizzerebbe il suo passaggio di scovari su canale 9. Passaggio che fu ventilato anche anni fa, prima del suo approdo nella domenica sera di Rai 1. Sarà vero? Grazie. Grazie a tutti.